se ti avvicini magari troppo alla ciotola non riesci a mettere dentro le mani perché ti fa vedere i denti emanuele ha scelto scuola per cani da bergamo per far sì che il suo jack possa cambiare i comportamenti che finora sono stati mostrati nella convivenza quando è stanco magari che magari sta dormendo che se lo tocchi magari comincia a stare un po jack è un meticcio di due anni un cane che ha già morso cinque persone la vicina di casa e altri estranei per questo motivo abbiamo fatto dei test relativi al grado di ocilità del cane che è risultato essere indocile ha mostrato aggressività anche nei confronti del proprietario durante le manipolazioni che abbiamo provato qui presso la nostra struttura emanuele ha deciso quindi di iniziare un percorso e nel prossimo video vi mostreremo i progressi di jack